Ecco, questo è l'istante in cui ho deciso. In cui ho deciso di essere stanco, di restare a casa, ad aspettare un lavoro che non arriva mai. In cui ho deciso di guardarmi intorno e di osservare il mondo con occhi nuovi. È l'istante in cui ho capito che certi luoghi comuni erano storia passata e che potevo fare anch'io quello che prima era solo per pochi. Questo è l'istante in cui ho deciso che il lavoro non significa per forza fatica fisica. È il momento in cui ho capito che mio figlio avrebbe potuto seguire le mie orme e andare anche più in là. Dove la meccanica incontra l'elettronica. Dove il lavoro non è più quello di una volta. Dove nasce un futuro in cui posso essere protagonista. Perché finalmente il mio futuro dipende solo da me. Non è più quello di più non è più quello di una volta. Grazie a tutti